Buongiorno, sono Antonella Gemelli, psicologa, psicoterapeuta e collaboro con il CIL di Modena, Clinica Italiana di Psicoterapia, specializzato per i disturbi di personalità. All'interno del centro conduco insieme alla dottoressa Alessandra Brugnoni i gruppi secondo il modello dialettico comportamentale. Inoltre, sempre all'interno del centro, mi occupo con la dottoressa Alessio Freddi dell'intervento sui familiari. È ormai noto infatti come insieme alla vulnerabilità emotiva l'ambiente e il contesto di vita possono concorrere all'instaurarsi delle difficoltà di regolazione delle emozioni. È il cosiddetto ambiente invalidante caratterizzato dalla tendenza a rispondere in modo inefficace e inappropriato alle esperienze emotive cognitive del paziente, limitandone così lo sviluppo delle capacità di regolazione emotiva. Pertanto è previsto all'interno del percorso un gruppo settimanale multifamiliare che da una parte ha lo scopo di aiutare i caregiver ad acquisire conoscenze e strumenti per promuovere il benessere del paziente e dall'altra mira a ridurre il carico derivante dalla cura, fornendo supporto diretto al familiare. L'intervento di tipo psicoeducativo fornirà ai familiari informazioni circa la diagnosi, darà indicazioni sui comportamenti da adottare nei momenti di crisi e insegnerà competenze specifiche per far fronte alle difficoltà di comunicazione, alle difficoltà legate al controllo della rabbia e dei comportamenti problematici in generale.